Il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato il PEF Tari 2022, un incremento ridotto a 2,3 milioni di euro rispetto ai 5 milioni di prospettati alla precedente giunta Orlando. Il voto è stato commentato positivamente dal sindaco, Roberto Lagalla. Questa amministrazione comunale ha detto che è riuscita a ridurre il più possibile l'aumento della tassa sui rifiuti, grazie ad un emendamento approvato all'unanimità che ha stanziato ad 1.700.000 euro. Il primo cittadino sottolinea, abbiamo instaurato un nuovo modus operandi, fatto di approfondimento e confronto con il Consiglio Comunale per individuare le misure più favorevoli per i cittadini. Purtroppo i costi e gli extra costi relativi all'anno 2020 vanno gestiti, ma abbiamo cercato di ridurre al minimo gli aumenti e ci siamo riusciti. Va detto inoltre che il Consiglio Comunale non aggiornava le tariffe tari dal 2019, nonostante l'evidente aumento dei costi, da ultimo anche delle materie prime e dell'energia, impedendo così al RAP di svolgere al meglio i propri servizi. L'approvazione delle tariffe tari è solo il primo atto degli atti che questa amministrazione intende approvare per mettere il RAP nelle condizioni di garantire alla cittadinanza un servizio adeguato. Unici, contrari all'atto e emendato, i tre consiglieri del Movimento 5 Stelle, che in una nota hanno spiegato le ragioni del proprio voto. La maggioranza di centodessa del sindaco Lagalle in Consiglio Comunale ha deciso di aumentare la tarie ai cittadini di Palermo, già tartassati dagli aumenti di luce e di gas. La cosa ancora più assurda è che le famiglie più numerose pagheranno la parte più corposa, con aumenti in media di circa 50 euro. Incredibile che i palermitani debbano pagare la cattiva gestione comunale per i disservizi e regionale per i ritardi di musumeci per la consegna della settima vasca di Bello Lampo di tasca propria.